Cover in oro massiccio a 24 carati, rifinita incisa a mano, bordo esterno punteggiato da 600 diamanti, schermo in zaffiro, logo posteriore con oltre 50 pietre preziose e un diamante nero al posto del tasto Home. È Black Diamond, l'iPhone 5 più costoso al mondo. Il telefono è stato creato su commissione dal designer Stuart Hughes per un uomo d'affari di Hong Kong e ha un costo stimato di quasi 12 milioni di euro. L'apoteosi dell'incontro fra luce e tecnologia, Binomio, che già altre volte ha ispirato più di un'azienda come Vertu, La società anglo-svedese, prima di Nokia e poi ceduta alla EQT, ha prodotto uno smartphone extra lusso Vertu Ti dallo schermo in zaffiro e case in titanio. Il costo non è di milioni di euro, ma resta comunque accessibile per le tasche di pochi. Il modello base è intorno ai 7.000 euro, mentre i cellulari dal design più personalizzato possono superare i 15.000.